Cominciano a preoccupare i numeri dei contagi giornalieri all'Aquila. Se il trend continuerà così, la provincia potrebbe superare i confini della zona rossa. Sono gli stessi sanitari a lanciare l'allarme. Preoccupa ad esempio il focolaio di San Gregorio con una ventina di suore positive, sia nell'istituto della frazione che nella casa di Piazzale Paolo e che ha suore dello stesso ordine. Le suore stanno bene, tranne due che hanno avuto sintomi più gravi e sono ricoverate. E sarebbero emersi altri positivi tra i contatti stretti delle suore, che hanno anche annessa all'istituto di San Gregorio una casa famiglia con un'utenza molto vasta. Da questa mattina al drive-thru di Preturo sono iniziati i tamponi ai bambini della scuola dell'infanzia, chiusa nei giorni scorsi dal sindaco. Lo screening fatto per la popolazione di San Gregorio ha dato tutto sommato risultati incoraggianti. Su 875 tamponi fatti, quattro sono i positivi. Per la ASL, insomma, il focolaio delle suore e di San Gregorio è circoscritto. A fare il punto è il dottor Domenico Pompei, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL. La situazione epidemiologica per quanto riguarda l'infezione da Covid nel territorio aquilano, come è ampiamente noto dai numeri, chiaramente mostra un lieve aumento nel territorio dell'entroterra e quindi mentre sembrerebbe che stia lasciando la costa, si sta spostando verso l'entroterra. Qui all'Aquila abbiamo avuto un focolaio presso gli istituti religiosi in una frazione dell'Aquila che però sia abbastanza numeroso, però è sotto controllo. Invece quello che preoccupa un pochettino di più, principalmente nel territorio marsicano, è la presenza di varianti. Abbiamo avuto alcuni casi di variante brasiliana e che stiamo cercando di tenere sotto controllo, anche facendo screening a tappeto, sia di tipo antigenico che molecolare presso i contatti in maniera tale da tenere tutto sotto controllo. Però è chiaro che vale sempre la regola massima attenzione, distanziamento sociale, utilizzo di mascherine e un invito a tutta la popolazione di seguire queste regole perché non possiamo abbassare la guardia, soprattutto in questo frangente. La fase è critica. Secondo il primario di malattie infettive Alessandro Grimardi, i reparti Covid sono quasi pieni e molte persone sono seguite a casa con la terapia Covid. Il sindaco Pierluigi Biondi è pronto a mettere in campo altri screening per i giovani, ma servono misure drastiche. È durissimo pure il commento del professor Franco Marinangeli, che auspica la zona rossa. Il primario di terapia intensiva scrive che il Covid, con l'aiuto di molti irresponsabili, continua a mietere vittime, vittime spesso inconsapevoli e non a causa del loro male, ma del cattivo comportamento altrui. La curva dei contagi nell'area sale e questo avrà conseguenze ancora una volta irreparabili, sostiene.